Dirigente, oggi è una giornata davvero molto importante per i bambini dell'infanzia che apprendono l'inglese giocando. È davvero straordinario come questi bambini così piccoli riescano ad avere anche grande entusiasmo per imparare una seconda lingua che poi è la prima lingua in Europa. L'English Day, che è una giornata dedicata all'inglese nella scuola dell'infanzia, rappresenta un'attività nell'ambito del progetto sperimentale di azione, di sperimentazione e ricerca che prevede l'inserimento della lingua inglese nella scuola dell'infanzia. Il collegio docenti ha voluto questo progetto sin dall'anno precedente, convinti del fatto, i docenti, che qualsiasi percorso di formazione non può prescindere dalla conoscenza della lingua inglese, perché conoscere la lingua inglese oggi permette di abbattere tutte quelle barriere sociali, culturali, nonché professionali. E poi si sono basati molto su degli studi fatti da ricercatori che hanno individuato nell'ambito della fascia di età che va dai 3 ai 5 anni, il periodo migliore, ottimale, per poter acquisire quelle competenze linguistiche di una seconda lingua. Qual è la metodologia scelta per l'apprendimento dell'inglese? L'apprendimento dell'inglese deve essere in primo luogo un processo intuitivo e naturale, che i bambini apprendano la lingua attraverso le attività ludiche che noi proponiamo. Usiamo di tutto e di più per far apprendere questi bambini, palloncini colorati, animali. I bambini veramente hanno appreso la lingua inglese in maniera molto divertente, come abbiamo visto con i dialoghi. Risultati veramente sorprendenti, anche se sono piccolissimi. Sono bambini che vanno dall'età di 3 anni ai 5. What's your name? My name is Martina. How old are you? I five years old. Where are you from? I from Italy. Dad, mom, brothers, sister, baby.